Il Comune, dopo i decreti nazionali di ripartizione delle somme dello Stato e dopo la firma dell'accordo fra regione e autonomie locali sull'utilizzo dei fondi stanziati dalla finanziaria regionale per compensare le minori entrate dei comuni dovuto all'emergenza Covid-19, intende usare i 27 milioni di euro che arriveranno nelle casse di Palazzo delle Aquile per ridurre le tasse locali e pensare ad agevolazioni per i servizi a domanda individuale, asili nido, menze scolastiche, impianti sportivi, servizi cimiteriali, utilizzo o fruizione di spazi culturali. Il Sindaco, Leoluca Orlando, ha costituito un gruppo di lavoro coordinato dal ragioniere generale per procedere in questa direzione. Il pool dovrà fornire al Sindaco i dati necessari per la predisposizione di una proposta che la Giunta farà al Consiglio Comunale per la modifica dei regolamenti sui tributi. L'accesso alle agevolazioni per il 2020 dovrebbe essere consentito solo a coloro che sono in regola con il pagamento degli anni precedenti e a coloro che pur non avendo pagato regolarmente in passato avvino un piano concordato e rateizzato di rientro del debito.